Dove diavolo è la nostra scala? Ah, la guida è entrata! Dov'è andata? Ok, ho trovato, ho trovato, ho mezzo cuore! Aiuto, aiuto! No, no, no! Mettemi che sono... Al chiuso sei morto. No! Allora, non ho cibo, non ho niente io in pratica, ma perché? Eh, che dite di faccio un pillar, salgo più in alto che posso? Ma siamo già in alto con la nostra scala. Sì, ma non abbastanza per gli scheletri evidentemente. Ah, in quel senso. Ma voi vi dite qualcosa? Oddio, c'è anche un po' di giocchi come sono assorbanti. Allora, e io vedo ancora là in fondo, vedo la stessa roba di qua. Sì, evidentemente ti do ragione. Cioè, c'è, dai, un coso di glowstone una volta ce la facciamo. Eh, infatti, è quello che sto pensando anche io. C'è uno scheletro in gioco, eh. C'è uno scheletro che è intenzionato a farci del male. La cesta giù lì non guardatela neanche, l'ho già presa io, ce l'ho dentro una cetta incantata, non ho guardato neanche cosa avesse l'incantato. A fila tezzo uno, indistruttibilità uno. Se volete una spada in legno per uno di voi due. Io, 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 no, no, io vado bene di arco coperto. So che ce n'è uno alla casa, però. Se muoio, me la vado a prendere. Ma no, ma non state lì a fare, non sprecate glowstone per fare il doppio ponte. Eh, ho capito. Almeno uno fallo. Io vado giù a prendere un po' di glowstone. Puccio, però così stai andando verso i mob. Eh, dove devo andare, Cice? Eh, all'altra colonna di glowstone. Oh, ah, proprio all'altra colonna di glowstone, ok. C'è uno scheletro giù, e se muoio è colpa tua. Eh, infatti, non è... Veloce, veloce, ok, entra nella glowstone. Adesso dobbiamo farci un'altra base qua. E sai, si va avanti così. Avete capito la mia idea? Tra parentesi. No, no, il mio consiglio è questo. È andare verso il centro della mappa, vedete? Dove c'è tipo il dirupo. Così gli altri mob non possono spararci. Eh, però allora rompi questo, va là. C'è in pratica andare in questa direzione. Vai, proviamo. Ditemi se vedete scheletro, fate da vedetta. Sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sì, ma se no mi punta, no, non è un problema. Non ti può prendere, non ti può prendere, non ti può prendere. Tu Ale, fai un po' di glowstone. Ale? Eh sì, Ale, fai, Simo, fai un po' di... Faisquit, fai un po' di... Eh, perché avete la stessa skin e quindi mi confondo. Eh, è vero, io ce la do, ma schia. C'è un altro pillone di glowstone. Idea, 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 idea. Entra in questa cosa qua di glowstone. Andiamo in alto e poi si astrae in alto. E qua gli scheletri non ci beccheranno mai, dai. Posso andare centrale, non ci beccheranno. Sì, però, faccio una scala. Io ho una spada e non ho paura di usarla. Oh, ho fatto, ho trovato. Ok. Fai a vedere. Beh, siamo a un'altezza discresa. Chissà quanto... Oh, oh, la madò. Ti vediamo. Porta del cibo. Corri, Minecraft. Arrivo, 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 arrivo. Ti arrivo incontro, occhio, non ti spaventare. Più in alto di così, dubito che si possa fare. Passami del cibo, passami del cibo, qua. Qua, qua, qua. Perché dopo è tutto in bilico. Non si sa mai di farlo cadere. Se vedete delle ceste, ditemelo, eh. Ah, ne vedo una io. Sì. Ho un arco normale. Wow. Guardatemi il culo dagli schienetri un attimo. Oh, vimbe, c'è. Ragazzi, vedo qualcosa, vedo un'entrata. Veramente? Sì, vedo un'entrata con delle fiamme. Con la netherrack, con la netherrack. Oh, la vedo anch'io. Ed è fatto di mossi stone. Mossi cobblestone. Eh sì. Finalmente, ragazzi. Però la mia idea, le mie idee, cioè. Finalmente, mamma, non ne potevo più. Occhio che... Visto. Allora, adesso spaventano un buon... Come faccio? Come faccio a scendere? Eh, dobbiamo lanciarci. Ma moriamo? Eh sì. No, due ore ti rimangono. No, il 10.000 è morto. Squit. Fai una scala verso l'alto. Raccoglietela qua. Stanno arrivando 10.000 mob. Perché le idee di merda? Perché avete le idee di... Però chiudi la la scala, cioè nel senso, fai un coso che dove non passano. Ah, no, aspetta, Simo, da che ci sei porto tutta la roba. Eh, non potevate dirlo 30 secondi fa. Eh, torno indietro, dai. Sì, torno indietro, torno indietro. Porto tutto io, quindi? Porto a tutto. Riesci a sopravvivere se qua non moriamo. Però... Mamma, quanti zombie che ci seguono, dovete vedere. Una figata assurda. È bellissimo vedere i nostri ponti. È bellissimo. Sono... No! No! Ho mezzo cuore. Riesali con qualcosa? Con cosa? Non ho blocchi. Ho mangiato una mela d'oro. No, aspetta, però c'è della gru, sto lì, però c'è lo scheletro. C'è uno scheletro, c'è uno scheletro che mi spara. Non ti voglio vedere morire. Perché sono andato verso il basso? Eccomi sono... Mamma mia, i salvataggi! I salvataggi! Come mi sono salvato! Ah, che culo! Ma cosa che culo? È tutto approvagile questo. Sì, che approvagile va bene, però noi siamo salvi. Oh la roba! Dove diavolo è la nostra scala? Tranquilli, sto tornando, tranquilli. Ah, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Però non posso farti un ponte io. Io mi sto portando nella cuscia. Ti posso dire se c'è qualcuno. Ok, non c'è nessuno. Basta che fai... No, no, basta, fatti un ponte verso di me. Sei salvo? Yeee! Oddio, 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 oddio. Mai usare senza il tasto shift. No, 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 no. Oddio, stanno venendo dei creeper. Ma dove vuoi i creeper, ragazzi? De cosa stanno parlando? I creeper che vengono. Occhio, eh? Occhio, vedi, ti sto facendo un... Ti sto facendo un ponte verso di te. Perfetto. Vai piano, vai piano. Perché te li hai sui gli stivaletti? Perché così non morivo? Inventario. Ah. E qua, e qua, e qua, e qua. Dove stai andando? Come avete fatto a fare questa scala? Chi si è buttato? Ah, Simo, giusto. Davvero vuoi spaccare la mossi cobbre sulla mano? Sì, ti dico che io questo tunnel qua l'ho fatto spaccare. Ah, la witch è entrata! Dove è andata, scusate? Dove è andata? Ah? Dove è andata? Ok, trovata, trovata, trovata. Ho mezzo cuore! Oh, è morta, è morta, è morta, è morta. Chiudete! Eh, sì, magari se ci chiuso poi. Sì. Ecco, vai avanti qua, stavare a mano. Oddio, non entrate! Ho provato ad entrare dall'entrata! Penso che non arriverò mai più. Sì, eh, sono morto. Eh, ok. Scusa, Enderman, per... No, no, non sono morto, non sono morto. Dai, dai, sali. Eh, ragazzi... Aspetta. Ok, forse non è bello entrare nella Mossy Cobblestone, ve l'ho sicuro, eh? Che? Ho visto uno spawner e... Non avevo dubbi che fosse brutto. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. No, voglio dare un numero agli zombie che ho visto. Cento? Sento più timer, lava e tutto il resto. Secondo me... Cento zombie con lo spawner. Aspetta un attimo, Cicero. Come rompiamo lo spawner con senza piccone? A mano. O lo torcifichiamo così tanto che non spuona più nessuno? Io provo ad andare in quella maniera di... Ok, vai, vai. Ce l'ho fatta, alleluia, eh. Occhio, però. No, ma sono più in alto rispetto al livello base. Ok, aspetta che ho 28 blocchi. Oddio, lo vedo anch'io. Ci sono dei dispenser, ecco cosa serve la cosa. Oddio, io pensavo fossero zombie, non potevi entrare così. Ti avrei buttato giù. Oddio, quanta gente c'è. Tanta. Io ho una spada. No, non usarla perché se per sbaglio cado... Non usarla, se per sbaglio cado è finita. Ok, allora... Lo stavo per usare però. Datemi la Blaston per favore. Ok. Occhio però a passarvela. Guardiamo al lato positivo, non abbiamo più il ruolo di cibo. Mi è finita la c... No, mi è finita la c... Eh, c'è la spada. Oh, carote! Un po' di... Buttati! Ma anche il Dolmiel, ma non abbiamo la terra e la zappa. No, no, forse carri... Ma chi è che ha tutti gli oggetti? Io! Eh, stai. Bisogna fare le cose con cautela, eh. Ragazzi, ho un'idea. Ecco. Oh, c'è una cesta. Dove? La. Eh... Andiamo dalla cesta. Devo chiuderli, devo chiuderli. Sì. C'è qualcuno che è il campestre del Flash, o qui? Sono gli zombie. Siamo delle impalcature tipo come la Fiori Feli. Fatto. Tanto ormai siamo degli esperti. Avete qualcosa? Avete una spada che scendo io con le costruzze di diamante e li ammazzo? Dio. Mi scendo le scendere. Però è disto... E beh, sì, guai che ha ancora... Ha ancora 12 di durabilità, eh. Allora niente. Oh, qua c'è la... Oh! Spin 3! Dammi le frecce, dammi le frecce. Aspetta, 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 aspetta. Allora, chi vuole un'acetta... Chi vuole l'arco? Io? No. Arco intero con le frecce. Vabbè, tienilo tu, dai. Eh, aspetta, ti faccio quello... Io l'accetta. E non c'è nient'altro? Eh, delle bottiglie dell'incanto al vento. Oddio, cosa c'è? Oddio, quanti zombie. E gli Spencer cosa c'è? Non c'è niente. E le uova di zombie ci saranno, che sono già spawnati. Ah, è vero. Ragazzi, ci sono. No, no, io le frecce le tengo. Ah, sono delle trappole, sono di trip Y-look. No, c'è il trip Y-look. Oddio, ma no. C'è uno scheletro, fammelo uccidere. Chi c'è l'allontano tutto? Anche perché io non ho più niente da usare. Avete un accendino? No. Ma cosa stai facendo? Oddio, bisogna scenderci. C'è una carota, c'è una carota. Ho ucciso. Ragazzi, fa un culo. Ho un gancio per filo da inciampo. Ah, c'entrava da lì. Eh sì, è quella l'entrata. Barrica, barrica che stanno arrivando. Eh, non ho niente per chiudere. Oh, cazzo. Qualcuno chiude. Non ce lo credi, Bluestone. Eh, chiudi. Chiudi qua. Chiudi. Eh, tre pezzetti, non tre blocchi. Ah. Allora siamo fatti. D'altro aspetta, io spoglio un attimo questo. due per risalire. Aspetta, tranquilli, tranquilli, tranquilli. C'è un enderman. Eh, eh, zombie infuocati. Perché ci sono gli zombie infuocati? Aspetta, io torno a prenderla a Bluestone. Ciao. Ciao. Possiamo sopravvivere. No, 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 no. Oh, bella, sono ancora terzi. Ragazzi? Eh, non dovevi andare giù, Valchisi. Oh! Via, entra, entra. Noi che pensavamo che fosse un nuovo posto. Aiuto, aiuto! Ok, ora accetta. C'è tutta la tua roba, Gisi. Ce l'ho io. No, non mi dire, cece, non mi dire. No, c'è una patata là. Eh, vabbè. E c'era anche la carota, io l'ho andata per quello. No, la carota ce l'ho, è la patata che mi manca. Oddio, lo capite adesso. Oddio, ma quanti sono questi zombie. Dove sei oggi? Mi sono arrivato, sono qua. Eh, ma qua ci sono quelli piccoli. Adesso, se il dungeon ci vuole sicuramente che scendiamo. Sì. Ma è un portale del nero, quello là. Sono quelli piccoli. Sto piazzando, sto mettendo tutto. Ops, scusa. Stavo cercando di prendere lo zombie. Lo zombie è salito, io ho... Non ho un'arma. Io ho una cella. No, ho sbagliato, sbagliato. Mi date la cella, mi date qualcosa. Ma, Vettor, tieni. Tieni, ma dopo non ce l'ho più io. Ehi, non avevi l'arco! Non ce l'ho più? Eh, ma con cosa lo uso? Niente. Ah, sì, facciamo cadere in testa lenti. Come la riprendi dopo? E sì, è finita. Però io ora non ho più nulla, però vabbè. Ah, ma non mi cagano gli zombie. Loro salgono. Ci sono i creeper, non va bene. Ai, hai paura. Eh, serve della glowstone qua. Eh, vengo. Ah, passamela, passamela. Ah, se no fai una scala, buona idea. Doveva fare la poverità. Cazzo! Sono vivo, vero? Vuoi esplodere il creeper? Vivo? Sei vivo. Però c'è tanta di quella gente sotto. Eh. E poi ci sono le pleasure. No, 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 esci! Cosa stai facendo? No, volevo far esplodere il creeper. È esploso? Mi tristi? Entri, aspetti il momento in cui sta per esplodere e poi lo fa esplodere. Cazzo, sono morto. No, sono ancora vivo. Eh, mi stanno picchiando in troppi, ragazzi. È esploso. È esploso? Sì. Però sono morto. E' un'altra ancora tanta gente. Visto, 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 visto. Sono morto. No, 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 sono caduto, sono caduto, sono caduto. Siamo morti. No, non siamo morti. Dobbiamo chiuderci. Sì, ma io sono morto. Voi siete giù. Eh, io sono morto. Se mi riuscite a mettere in sicuro quell'area, chiamatemi. Mai nella vita la mettiamo a sicuro. Ma finché voi non pulite tutto, io non riloggo. Eh, sì, prima che arrivo io lì. Despona la gente, basta che mi dite non c'è gente, puoi risalire. Allora dopo... Squint è morto. Squint è morto, squint è morto. Come sono morto? Sì, sei morto. Oh, devi farmi tutta la strada. Sì, esatto. Comunque non c'è più gente nella nostra casa perché non stiamo paricandiggiando. Oh, è vero, non c'è nessuno. Non c'è nessuno neanche qua. Come mai? Non lo so, me la doro, me la doro, me la doro. No, è d'obbligo, d'obbligo, d'obbligo. Eh, prendila, era la mia. Se non arrivo giù, rivolgo il mio arco. Basta. Perché si tenete via. No, 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 no. Oddio. Quanta strada c'è da fare. Peso. Va bene, anche più di tanto. Insomma. Vedo quanto potete imparire. Ok, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, sono giù. Però non ho niente con cui chiudere. Eh, arrivo, arrivo, sto arrivando. Sono quasi alla mossicola. Ma invece ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho l'aluminite, ho l'aluminite. Cazzo, 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 cazzo. Eh, hai i miei blocchi, dito, cazzo, 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 cazzo. Ti vedi, ti vedi, ti vedi, ti vedi, ti vedi, ti vedi, ti vedi. Aspettaci a Gisius, che tappiamo lo spawner con l'aluminite. Sì, non c'è nessuno io qua. Vedo Cicero. Sono morto, sono morto, sono morto. Cazzo, riescono a saltare. Riescono a salire, questi pochi. Sono pari con la Gisius, di morchio. Cazzo, cazzo. Non arrivarmi a messaggi. Cazzo. Basta messaggi. Ah, convocati per domani. Allora, non ci sono. Sono vivo, sono vivo e sono chiuso. No, toccaszo, cazzo, cazzo. Io farò un po' animo. No, 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 no. Ditemi che sono vivo. Hai chiuso e sei morto. Hai zonte. No.